io volevo tornare Ross volevo tornare a a un altro discorso un discorso che ne abbiamo parlato all'inizio della nostra avventura su NewsGen a febbraio quando abbiamo avuto un ospite che oggi torna a parlarci a chiacchierare con noi che insomma tanti contestano o tanti secondo me non capiscono e che però insomma secondo me ingiustamente viene criticato, per lo più ingiustamente viene criticato, a volte anche a tratti deriso e secondo me è una situazione adesso ne parliamo con lui assolutamente da condannare perché? Perché è una persona che si impegna per la sicurezza in questo caso degli altri visto che siamo reduci dalla pubblicazione di una live e poi dalla pubblicazione di questa live in cui c'è l'ennesimo l'ennesima diatriba su ciò che fa e sull'impegno che lui ci mette mi è venuto da ricontattarlo da farci un aggiornamento insieme a lui e da farci raccontare ancora come sta vivendo queste critiche che per me sono anche abbastanza astruse quindi diamo il ribenvenuto a ciao Thomas ciao ciao come stai Thomas? eh bene dai un po' rimasto male da alcune attacchi però si va avanti perché alla fine sapevo che era una battaglia difficile e quindi vado avanti a testa alta allora riepilogando un po' no Thomas quello che fai senza insomma chi vuole poi si va a rivedere la puntata si va a rivedere il reel che abbiamo sui nostri social in tua compagnia però sostanzialmente eh tu sei un ventenne si sei un ventenne che eh da ormai qualche 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 anno qualche tempo eh di tua sponte eh intervieni laddove eh nelle zone un po' più critiche no? della città di Milano ehm sostanzialmente ci sono spacciatori ci sono zone di spaccio e nella ehm nell'assenza delle forze dell'ordine che dovrebbero occuparsene dovrebbero intervenire dovrebbero far saltare eh per aria queste zone in senso ovviamente figurato riportando il la la quiete pubblica e ovviamente la eh legalità laddove non ci arrivano le forze dell'ordine arriva Thomas arriva Thomas con i suoi strumenti assolutamente come dire eh i novi non sono armi ma magari sono fischietti ok e ehm per attirare l'attenzione per mettere in fuga queste questi 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 spacciatori quello che sta succedendo e continua a succedere e io francamente sono ancora sorpreso tanto quanto lo sei tu forse Thomas è che tu vieni contestato e vieni contestato spesso da quei creator chiamiamoli così non arriviamo a definire di influenza così però creator che conosciamo bene perché popoliamo Twitch anche noi che magari ti invitano ti fanno raccontare la tua storia però poi ti dicono eh però non sei tu a dovertene occupare sei un eh come dire un un ingenuo sei uno che va a cercare il pericolo che mette addirittura in pericolo il i i tuoi eventi cioè i tuoi parenti chi tiene a te perché poi allora io la prima domanda che ti faccio poi magari nel mentre facciamo tra poco facciamo scorrere anche le ultime apparizioni ehm io ti chiedo ma tu ti ti aspettavi che non coloro i quali subiscono diciamo i tuoi interventi ma anche semplici curiosi come noi no chi chiacchieratori ti potessero muovere queste questo tipo di accuse allora dal cerbero sicuramente sì perché io il cerbero l'ho conosciuto quando ero piccolino sono stati cinque anni fa eh quando fecero un video contro Brumotti che io stimo e stimavo quindi da loro me lo sarei aspettato da Rubino invece invece no perché è una persona che comunque vedevo spesso insieme in live da Grambaud che io seguo è comunque un personaggio che io comunque stimavo e quindi non me lo sarei mai aspettato però secondo me tutti questi tutti questi attacchi tutti questi ragionamenti fatti da persone che hanno una propria community che hanno un proprio ehm modo di di pensare eh secondo me non fanno altro che influenzare negativamente le persone su quello che faccio impedendo loro di di pensare di farsi un proprio pensiero critico su quello che effettivamente faccio e che ho intenzione di fare e di questo mi dispiace perché la gente vorrei che aprisse un po' la mente su quello che faccio e non cadesse in in pregiudizi ecco ehm adesso stiamo vedendo un po' le immagini del tuo come dire della del tuo diverbio comunque della tua discussione proprio con con Rubino forse eh tra le più recenti eh ma tu credi che di essere anche un po' usato nel senso che adesso eh come dire qualche qualche video eh che ti vedeva partecipe di queste di queste discussioni di questi atribe soprattutto dal Cerberin poi insomma ha fatto numerose views secondo te queste questi questi inviti sono ti stanno anche un po' come dire strumentalizzando per ottenere seguito a questo punto in realtà devo essere sincero semmai sono io che essendo un content creator più piccolo di loro sto sfruttando queste opportunità per cercare di far valere le mie tesi cercare di argomentare le mie idee e far passare più gente possibile dalla mia parte purtroppo so che è una battaglia difficile però ho ancora la speranza che la gente anche se non la pensa come a me posso effettivamente cambiare idea parlando con me e vedendo effettivamente cosa che faccio nella realtà quindi giustamente lui dice si qualora anche fosse così in realtà io come dire contro l'epico sfruttando io la visibilità che loro mi danno ma l'accusa Thomas che ti che ti rivolgono di più qual è? che è troppo pericoloso per me che non ho il diritto perché non sono una forza dell'ordine non sapendo che io in realtà non mi metto alla pari di un poliziotto in realtà faccio solamente faccio solamente ciò che purtroppo come ha detto come avete detto prima le istituzioni non fanno ma che dovrebbero fare quindi mi contestano il fatto che è troppo pericoloso per me anche soprattutto Rubino una cosa che ha detto Rubino che però poco prima aveva detto invece su Mattia Pileggi che in realtà era un buon intrattenente aveva fatto i complimenti a Mattia Pileggi che fa quello che faccio io con Cicalone in modo diverso con più persone però essenzialmente si parla dello stesso argomento e poi con me invece mi ha criticato e quindi sulla pericolosità però io l'ho detto sono consapevole dei rischi e sta a me da individuo ormai maggiorenne responsabile scegliere ed essere consapevole fino a che punto io sono disposto a spingermi non sono gli altri a rispondere per me io non obbligo nessuno a fare quello che faccio io ma se mi sento di fare qualcosa per la collettività mettendomi anche in pericolo questo lo so benissimo ma se mi sento di fare è perché sento che è la mia vocazione chi sono gli altri per dirmi tu non devi farlo certo certo infatti intanto iniziano a commentare insomma c'è Pov che ci dice voglio proprio vedere Rubino se ha il coraggio di scendere da quella poltrona e cacciare via uno spacciatore perché ovviamente facile poi effettivamente lo teniamo un po' anche in onda questo commento perché poi è vero io facendo vuol dire dando seguito a quello che ci eravamo detti nella puntata precedente cerco un po' anche di allargare un po' il campo nel senso che poi dopo alla fine stiamo parlando di creator che hanno un grande seguito nella generazione Z quindi proprio i ventenni i ventenni di oggi e io invece da Thomas da 38enne un po' io mi mi stupisco rimango un po' deluso perché vedo in te cioè è vero nel senso tu rischi ci metti del tuo a volte magari che ne so potresti anche un po' limitarti mettiamola così e non lo fai però dall'altra parte come si fa a tagliare le gambe in senso figurato tagliare le gambe a qualcuno che vuole impegnarsi per la collettività cioè è come se ma questo lo chiedo a te visto che sei assolutamente il diretto interessato cioè non c'è una sorta di immobilismo rassegnazione lassismo pigrizia dimmi tu aiutami tu a descrivere la cosa come dire sì vabbè ok ci sono c'è il parchetto sotto casa pieno di spacciatori con la gente che si rivolge per rovinare le proprie vite quindi insomma stiamo parlando di un tema assolutamente molto delicato sì vabbè però se non intervenire alla polizia ma perché devo intervenire io ma non solo ma perché devi intervenire tu anzi tu non sei nessuno per intervenire cioè a me spaventa questa sorta di rassegnazione è più indifferenza sì anche l'assegnazione sì però secondo me c'entra anche l'indifferenza perché la gente non si mette in prima linea per combattere qualcosa che non riguarda se non riguarda direttamente se stessi o la propria famiglia e di questo anche a me spaventa tanto perché sì magari adesso colpiscono altre persone queste persone qua non stanno facendo del male adesso la tua famiglia però che ne sai che un giorno proprio quelle stesse persone mettono te stesso la tua famiglia anche in in pericolo perché ricordiamo che sono comunque persone pericolose ed è nell'interesse di tutti che comunque vengono fermate non solo mio certamente quindi ma soprattutto a me fa un po' nervosire il fatto che queste persone vengono in qualche modo giustificate perché da un lato si dice sì sono persone in difficoltà perché sono qua senza documenti non riescono a trovare lavoro e quindi si mettono a fare queste cose perché non hanno alternative quindi in un certo modo che è una cosa vera sono in difficoltà però ricordiamoci che non ci sono altre persone invece che con le stesse loro condizioni sono riusciti invece a creare una vita e a ricominciare quindi non è vero che c'è solo quella strada lì almeno non per tutti e quindi invece di criticare poi loro effettivamente poi vengono da me a lamentarsi che per carità uno può anche essere in difficoltà ma allora che facciamo tutti quelli che sono in difficoltà poi sono giustificate delinquere non mi sembra che dovrebbe funzionare così non è giusto che funzioni così anche perché voglio dire tutta questa gente evidentemente non ha all'interno della propria rete familiare magari qualcuno che per esempio nelle droghe pesanti c'è c'è cascato e quindi dice chi se ne frega oppure magari anzi magari ne fa uso e quindi a maggior ragione non vuole tra virgolette rotture di scatole però persone normali come noi se dovesse incontrare ovviamente ci auguriamo di no però nel nostro nucleo familiare problematiche di questo tipo poi voglio vedere se a chi cerca poi di se avessimo il coraggio di se avremmo poi il coraggio di andare da un Thomas e a dire no che cacchio fai ma 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 ce ne fossero di Thomas certo ma invece io quello che ti volevo chiedere Thomas proprio il fatto comunque di aver avuto diversi io per ricordo anche nella scorsa puntata avevi parlato anche di come la tua famiglia se non sbaglio tua nonna aveva preso diciamo questa tua questa tua scelta di intervenire appunto su queste su queste situazioni abbastanza pericolose ora mettici anche abbiamo visto Rubino il Cerbero questi questi attacchi che tu hai tu non è la tua convinzione non ha mai vacillato neanche un attimo sei sempre stato convinto di fare quello che poi effettivamente fai allora io parto col presupposto dicendo cioè parto col dire che la mia famiglia è preoccupata come giusto che sia però comunque mia nonna vorrebbe che facessi altro mentre in più mia mamma che vedo un po' di meno perché sono separati i miei e mi sopporto un po' di più degli altri membri della mia famiglia proprio perché con lei riesco ad aprirmi un po' di più e anche lei essendo che a volte è quella che vede di più i miei video vede di più i contenuti riesce a capirmi un po' meglio però io sono io sono questo quindi magari sì qualche volta ho cercato di cambiare strada magari verso un anno fa avevo detto che ho provato a entrare a far parte dei a fare il concorso del militare però ho capito che non era la strada giusta io sono questo perché devo cambiare ciò che sono la mia vocazione ciò che mi spinge a fare quello che faccio quindi no io sono questo e sono contento di essere uno dei pochi che non si gira dall'altra parte mi dispiace a dirlo perché io vorrei che più giovani facessero come me magari non che si mettessero in pericolo però quantomeno di non di non fare l'indifferente di non girarsi dall'altra parte di aiutare i più i più deboli e questa cosa purtroppo nel giovane la vedo molto poco purtroppo e mi dispiace tanto perché io voglio dare un buon esempio per i giovani non so se ne sono capaci non so se ci sto riuscendo ma sto facendo il mio meglio e sono comunque da solo una piccola squadra però che non sempre mi aiuta infatti tante volte io vado da solo e per questo sono stato pure contestato ma non devi andare da solo però se nessuno lo fa io non riesco non riesco proprio per come sono fatto io a non fare niente a girarmi dall'altra parte non riesco quindi questo è questo assolutamente ti va ti va ti va riconosciuto ti volevo chiedere tu prima dicevi approfitto appunto anche della visibilità che mi danno personaggi tipo Rubino immagino anche Ivan Grieco con la sua miniera è successo tre o quattro mesi fa insomma ma il fine qual è cioè il fine di dire ragazzi che ne so state attenti ragazzi come dire affiliatevi a me facciamolo insieme o anche un seguitemi datemi anche appoggio in modo tale che che ne so diventando io stesso creator con un certo seguito e quindi magari monetizzando io poi possa dedicarmi anche in toto a questo perché tanto ho delle monetizzazioni delle opportunità di revenues che mi arriva dal vostro dal vostro seguito e posso farlo con ancora maggior come dire convinzione perché ragazzi diciamo tu lo fai gratuitamente questa cosa qua e quindi di conseguenza presto o tardi poi dovrai insomma mantenerti nella vita se questa cosa la fai gratuitamente non potrà essere questo una voce di entrata nelle tue finanze quindi cosa c'è nella strategia nella ricerca di visibilità di Thomas? allora io quel cosina comunque già comunque prendo facendo quello che faccio quindi non è che poco sicuramente non tanto quanto Rubino non tanto quanto altri content creator assolutamente però qualcosina già comunque la prendo ovvio che purtroppo non purtroppo non sempre basta quindi è un insieme delle cose che hai detto tu sia per cercare altri aiutanti perché come ho detto una cosa che do ragione a Rubino è che sarebbe meglio che andassi in gruppo quindi anche cercare di ampliare di aumentare le persone della mia squadra sia per appunto ricevere più avere più pubblico e sia per appunto diffondere il mio messaggio che è il messaggio che poi traspare in tutti i miei video cioè non girarsi dall'altra parte fare il proprio piccolo non pensare mai non avere mai ragionamento del eh ma non ha senso che lo faccio io perché tanto non si risolve niente perché ci arriva un così quindi solo occhio al microfono dicevi così meglio sì non lo sentiamo più ok scusate c'è il messaggio appunto anche del non non ragionate pensando eh ma che senso ha che faccio questa cosa qua perché tanto se la faccio solo io non si risolve niente va bene però intanto tu inizia a fare il tuo piccolo inizia a fare qualcosa poi dato il buon esempio che ne sai che magari altri lo fanno e poi comunque una buona azione non serve comunque a qualcosa certo che certo che serve a qualcosa sicuramente non risolverà le cose però pensiamo già prima fare il nostro almeno poi dopo si vedrà certo 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 e come dire qual è la cosa che in questi mesi noi ci siamo incontrati a inizio febbraio e da lì poi sono arrivate cioè sono proseguite le ospitate qual è la cosa che è un po' che è rimasta impressa sia in positivo che in negativo di quello che hai sentito ospite di questi creator molto molto affermati ma essendo che purtroppo la vostra è una delle poche trasmissioni che mi supportano e di questo vi ringrazio e ho sentito purtroppo poche cose che ho che ho che mi hanno aiutato a a migliorare diciamo questa questa mia attività e la cosa che invece mi ha aiutato è stato riguardo una critica di Marra di Mr. Marra sulla qualità tecnica dei miei video che sto cercando di migliorare perché appunto sono consapevole che ho ancora tanto da migliorare sotto l'aspetto tecnico ma sicuramente migliorerò quindi quello per quanto riguarda le altre critiche io non non sono non sono d'accordo critiche non si parla di pericolosità perché sono il primo a dire ripeto che è pericoloso però delle altre cose è solo questo solo l'aspetto tecnico dei miei video Damask secondo te perché Cicalone ha questo successo così così grande? Perché secondo me fa parla di cose e tratta di temi molto in voga e riesce a sfruttare anche la rabbia delle persone riguardo certi argomenti perché questi argomenti anche quelli che tratto io temi sulle borsizzatrici sulla sicurezza sugli immigrati che creano problemi che non sono tutti così però c'è anche una parte che io Cicalone mostriamo che purtroppo è pericolosa creano rabbia nelle persone perché si sentono abbandonati dallo Stato e quindi anche questi contenuti servono anche per dire alle persone guardate che comunque ci siamo qualcuno sta denunciando questa situazione guardate questa cosa qua e facciamo quello che possiamo poi ovvio anche lui io non so se lui effettivamente lo faccia per soldi o non per soldi però anche lì la critica che gli hanno fatto lo fa solo per soldi secondo me non è la critica che sta in piedi perché anche un poliziotto fa il suo lavoro e ovviamente ha retribuito però non è che per questo lo fa solo per soldi ci sono anche i poliziotto che fanno il loro lavoro credendoci e portano anche a casa il pane per vivere per la propria per la propria famiglia quindi per questo secondo me è una critica inutile anche perché lui con 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 gli scritti che ha potrebbe tranquillamente occuparsi fare video su altre cose che farebbe comunque secondo me successo se fa questo è perché anche lui ha un interesse nel parlare di trattare di certe cose e quindi poi veniamo anche un po' al tema intanto vediamo qualche video anche dello stesso Cicalone vediamo poi il tema di dove tu ovviamente vai a intervenire cioè nel senso la mancanza di presidio una cosa che noi ovviamente a livello giornalistico affrontiamo spesso di cui parliamo spesso è sai comune di Milano ci sono 500 nuovi vigili urbani che piuttosto che i sindaci che lamentano nei confronti del ministero piuttosto che i comitati sulla sicurezza per il quale arriva il ministro la prefettura ma sostanzialmente in questi due tre anni che insomma ti hanno visto assolutamente grande conoscitore e presidiatore della città in questo caso parliamo di Milano ma credo che oramai come metropoli tutte un po' parlino un po' purtroppo la stessa lingua cioè effettivamente hai visto dei miglioramenti in che cosa sono sempre un po' parole vuote si ritrova sempre il solito Thomas che deve prendere coraggio e consapevolezza di certe cose insomma adesso che stai anche crescendo sei un uomo più che un ragazzino il tema sicurezza all'interno delle città come al di là dei borseggiatori al di là degli spacciatori cioè proprio queste città effettivamente è vero che sono insicure al di là degli interventi che fai allora ma sì Milano come io non ci sono mai stato a Roma posso parlare per Milano però sì Milano è una città secondo me insicura basta starci questo non vuol dire che se ci vai se si va lì una volta a prendere il treno è scontato che si viene dirubati lì no lì sarebbe veramente come essere la Gotham City non siamo a questi livelli però da qua dire che nella città ci sono dei rischi non ci sono pericoli secondo me è sbagliato c'è effettivamente un problema e poi tanto hanno detto ma un tempo era peggio sì un tempo era peggio ma allora cosa vuol dire che non bisogna fare niente perché un tempo era peggio si va avanti con gli anni si spera e si presume che le cose debbono andare sempre meglio invece non è così anzi però dei miglioramenti ad esempio in stazione centrale cinque anni fa gli spacciatori ce n'erano molti molti di più a Porta Venezia anche dove ha fatto un servizio a pochi anni fa Brumotti dove è stato colpito con un bastone alla mandibola dove io ho fatto già innumerevoli servizi sta migliorando sempre sempre di più io ho avuto modo di conoscere il dirigente non so se dico bene il termine però è un dirigente dei polizioti in borghesi che io ho conosciuto durante il mio servizio e una volta stavo intervistando uno spacciatore perché ho detto vabbè mi contestano tutti che non ci parlo con loro proviamoci per una volta tanto erano pochi a provare a fare sta cosa sono uscito hanno fermato me i polizioti in borghese invece degli spacciatori però vabbè poi hanno fermato anche loro e mi hanno fatto il polizioti in borghese mi ha portato dal dirigente il dirigente mi ha riconosciuto e mi ha detto ma questo ragazzo mi è andato a dritto e rovescio e ho detto sì mi ha passato il numero e secondo me anche grazie al suo lavoro a Porta di Inizio le cose sono molto migliorate qualche spacciatore lì c'è sempre c'è sempre però rispetto a pochi anni fa veramente è una cosa diversa il problema però ancora c'è in sezione centrale ho letto poco poco fa una notizia su so se su Miranombera da Dio su altri non lo so dove poi ho letto che è stata hanno fermato in sezione centrale un notizio armato di un'arma bianca in sezione centrale poco poco tempo fa quindi dire che è sicura non me la sento dire che sta iniziando a volte sì a volte no dipende è una cosa che cioè a volte vedi che ci sono anche dall'altra passazione centrale è fatta che da una parte c'è il presidio della polizia a volte con la loro camionetta che presidiano una zona dall'altra parte invece totalmente dalla parte totalmente sotto il controllo di spacciatori quindi a volte invece fortunatamente anche l'altra parte che di solito è lasciata in mano agli spacciatori è presidiata o dai militari o da una volante immobile della polizia quindi in realtà dipende secondo me mettono l'altra volante della polizia dopo che è successo qualcosa il giorno prima si sente si sente si legge sui giornali tizio armato di coltare il giorno dopo la volante poi si fa aspettare un po' di tempo e quella volante si toglie ritornano i spacciatori e rimane ancora una volta cioè intervengono sul momento anche solo per avere come dire sì un intervento ok però magari anche per soddisfare una sorta di accusa anche mediatica però poi dopo dopo due o tre giorni o comunque dopo quell'intervento temporaneo un po' si perde via cioè non è strutturato non è organico come intervento questo tu tu stai stai dicendo allora sulla questione del suggerimento che Marra ti dava sulla qualità anche guardando un po' i contenuti per esempio proprio di di Cicalone effettivamente sì si può si può notare però mi viene da dire anche che e questo è di nuovo una situazione che va riconosciuta è anche vero che io ho guardato tutte le interventi che Thomas ha fatto nel in questi mesi lui così come lo vediamo si presenta anche davanti a quei creator tanti possono come dire proprio perché magari cercano visibilità piuttosto che soffrono che ne so il carisma digitale perché poi bisogna vedere come diceva prima Pop che diceva sì poi voglio vedere Rubino se poi interviene lui magari anche soffrire un po' il carisma digitale di queste persone e diceva eh no sì però magari avete ragione così no cioè Thomas dritto per dritto lo dice anche in questi mesi in pochi lo hanno appoggiato lei ha continuato a fare quello che ha fatto devo dire che secondo me tante cose ma lo viviamo anche noi come come produzione così tante volte sui social viene molto premiato il personaggio colorito il personaggio che alza un po' l'asticella della a volte un po' del trash a volte delle parolacce a volte dell'aspetto estetico così eh o anche proprio degli argomenti no eh invece Thomas dritto per dritto va lì con un'educazione devo dire che eh invidiabile perché questo secondo me lo so che è un po' da boomer forse farlo però io lo sottolineo lo stesso perché eh secondo me vale la pena ci vorrebbe eh un po' più di pulizia anche nel nel gergo nell'affrontare certi argomenti lui va lì e le affronta in maniera come dire appunto molto molto trasparente molto educata poi della serie volete riempirmi a male parole fate pure fate pure volete criticarmi fate pure insomma insomma questo questo è quindi insomma è sempre devo dire che è sempre un piacere avere avere Thomas Thomas con noi e eh Thomas al di là di quello che poi potrà accadere non potrà accadere a Milano e tutto il resto però insomma nel futuro cioè tu nel momento in cui torni a casa sei intervenuto così secondo te cos'è che manca sì noi possiamo dire sì il personale i vigili le cose però tu giustamente dici anche no però io poi voglio un po' di visibilità anche per sensibilizzare le persone ma queste persone no che cosa è che potrebbero fare secondo te concretamente diamo insomma uno due suggerimenti nel momento in cui vogliono rompere questa indifferenza di cui abbiamo già parlato e magari che ne so tu dicevi Porta Venezia magari c'è un sacco di gente che lavora a Porta Venezia e potrebbe fare qualcosa ma che cosa può fare la gente comune che non ha il tuo coraggio però non vuole neanche restare indifferente ma a continuare magari a fare esposti sulla situazione continuare a segnalare una situazione magari anche segnalando online con l'app di Youpol che è un'app in cui io mi affido spesso pochi giorni fa io con la mia telecamera nascosta sono riuscito ad avere il numero di questi spacciatori a filmare qualche scambio e grazie a questi numeri li ho postati anche di dovere adesso saranno comunque delle indagini spero quindi segnalare comunque fare magari foto se uno è residente lì vedere la situazione dal balcone senza farsi vedere magari può filmare gli scambi filmare un po' le facce senza farsi scamare e poi andare tutto anche alla polizia a fare continuamente esposti non dico le ronde perché se no so già che se dico questa cosa inizieranno un botto di 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 critica e insulti però secondo me anche però secondo me anche far capire dare il messaggio che il cittadino in certe zone è presente e ci tiene una propria città secondo me è anche un buon messaggio io stavo cercando anche di organizzare una manifestazione con altre persone tempo fa sulla sicurezza a Milano purtroppo non siamo riusciti a mandare l'importo però sono ancora intenzionato ad organizzare questa cosa il cittadino si deve far sentire si deve far sentire anche le istituzioni in tutti per intervenire comunque ci sono a segnalare farsi sentire fare esposti e collaborare anche con le forze dell'ordine comunque ricordiamoci che anche loro non è che anche loro sono in difficoltà anche loro è un lavoro comunque difficile e bisogna semmai aiutarli è quello che tante volte cerco di fare anche io ma inviando loro prove tutte le registrazioni che magari possono essere utili li invio a loro aiutarli come si può il cittadino ha dei mezzi è giusto che li usi ultima cosa che ti chiedo tu se non sbaglio avevi detto che quando ti soprannominano Thomas Fischietto per te è una sorta di offesa cioè la prendi male me lo confermi giusto? diciamo che è un soprannome che non mi piace tanto anche perché di soprannomi in me ce ne sono tanti quindi perché inventare un altro Fischietto solo per sento un po' diciamo sminuito capito? esatto però io ti faccio come dire la butto lì poi fanne quello che vuoi assolutamente però in realtà in una come dire in un periodo in un'epoca storica in cui i nomignoli ti entrano penetrano nell'immaginario anche delle delle persone identificano un po' è vero che potrebbe e non ne sarebbe nemmeno il primo caso potrebbe essere nato a scopo di derisione di svilimento di quello che fai però potrebbe essere anche giocare a tuo favore una specie di grimaldello per ribaltare la situazione nella serie sì io sono Thomas Fischietto ok e però faccio brutto tra virgolette però quando sentite parlare di me vuol dire che un intervento è stato fatto vuol dire che qualcosa c'è vuol dire che ci sono delle persone giovani tanto quanto lo sono io e di cui io sono un po' il capostipite che interviene laddove le forze non ci sono è solamente guarda una riflessione a voci alta prendila come tale perché veramente nell'epoca in cui tutto è marketing anche ciò che in apparenza può sembrare svilente come dicevi tu potrebbe in realtà insomma entrare maggiormente nell'immaginario collettivo anche a scopo come dire positivo sì il conoscimento sì concordo grazie mille per la tua partecipazione continua così ovviamente sempre stai attento così però insomma non non farti abbattere dalle critiche soprattutto quelle gratuite poi se vengono per essere costruttive prendile tutte perché sicuramente hai tanto ancora giustamente da imparare da vivere però per il resto stai bene accorto e tieni saldi i tuoi ideali a presto ciao ciao ciao